Ciao, Ragnetto. Ultimamente ti penso spesso. Eravamo magnifici insieme, vero? Forse dovremmo ravvivare la passione. Black Cat. Spero non stia cercando nuovi obiettivi da svaleggiare. Mi aveva promesso di cambiare vita. Che cosa stava cercando? Ci sarà qualcosa fuori posto? Vuole che noti qualcosa. Devo osservare meglio. Trovato. Uno dei suoi gatti. Prima li imbottisce di amplificatori di portata, poi cattura segnali a radiofrequenza. Chiederò a Yuri di recuperarlo. Felicia è troppo astuta per esporsi in questo modo. Deve essere in difficoltà. Terrò gli occhi aperti. Ehi, Yuri! Hai ancora costume e armi di Black Cat nel deposito delle prove? Penso di sì. Perché? È tornata? Forse. Controlla e fammi sapere se il suo equipaggiamento è ancora lì. Certo. Sì, è me. È tardi. Che succede? Dovevamo cenare insieme stasera. No, è vero. Scusa, l'avevo dimenticato. È stata una giornataccia. Il laboratorio ha perso i fondi. Oh, Peter. Mi dispiace. Non solo. Mi hanno anche, ecco, dato lo sfratto. Cosa? Hai un posto dove dormire stanotte? In effetti, no. Non ce l'ho. Senti, odio chiederlo. Ma non avresti un letto al rifugio? Ma certo. Puoi usare il divano nel mio ufficio. Grazie mille.